L'improvviso arrivo dell'estate dopo settimane di intense piogge ha portato con sé anche l'avvento massiccio delle zanzare. Proprio in questi giorni a Padova è in corso il secondo ciclo di disinfestazione su aree pubbliche. Il calendario è consultabile su Padovanet. Ogni anno infatti il Comune procede a trattare tutte le aree verdi con prodotti larvicidi che alterano la crescita larvale e inibiscono la comparsa dell'insetto adulto. Per rendere efficaci i trattamenti è importante però la collaborazione di tutti i cittadini nelle aree private come previsto dall'ordinanza prestando la massima attenzione anche nelle aree private a individuare e svuotare l'acqua stagnante e se non possibile a trattarla con pastiglie larvicide messe a disposizione gratuitamente dal Comune. Il prodotto consegnato ai cittadini in compresse deve essere utilizzato secondo le quantità e le modalità descritte nell'etichetta. Va inserito all'interno di caditoie, tombini, griglie, pozzetti presenti nelle proprietà private nelle quali si raccolga acqua piovana e va ripetuto ogni 2-3 settimane e dopo forti e abbondanti acquazzoni fino alla fine di settembre metà di ottobre.